Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi torniamo ad occuparci di politica. Ospite nei nostri studi il segretario regionale dei Giovani Democratici Abruzzo, Saverio Gileno. Buonasera. Buonasera, buonasera. Non posso non iniziare con la notizia del giorno, notizia del giorno in tutto il mondo. Peraltro Saverio Gileno è di ritorno anche da un viaggio negli Stati Uniti dove ha assaporato anche questo clima elettorale. Qual è il commento, suppongo, non certo, di entusiasmo da parte sua per la vittoria di Trump? Sicuramente è un risultato non positivo per quanto riguarda le forze progressiste. I repubblicani hanno vinto assolutamente nei vari stati chiave poi la presidenza e quindi torna Donald Trump dopo il suo mandato degli anni passati. I dati sono molti, il voto è complesso perché il sistema è un sistema articolato, quello statunitense, ma sicuramente abbiamo la conferma di una affermazione globale di un tipo di forze di politica iperpopulista quando invece le forze progressiste mostrano gravi difficoltà. Questo sicuramente perché manca il dare risposte chiare a quei problemi complessi a cui il populismo risponde in modo semplicistico ma purtroppo efficace sotto alcuni punti di vista. Nel caso americano i democratici americani scontano il fatto di non aver dato risposte a quella grande crisi di democrazia derivante dalla diseguaglianza e quindi al profondo problema economico presente in tutto il mondo e con le grandi differenze, le grandi diseguaglianze negli Stati Uniti ma anche alla crisi climatica, si vede l'uragano di poche settimane fa e soprattutto, non viene da dire, rispetto alla questione internazionale, all'instabilità politica. Ecco, sotto questo punto di vista i democratici hanno scontato una non chiarezza di posizione. A livello generale, a livello globale serve indubbiamente una nuova classe dirigente per il mondo progressista e serve dare risposte reali, concrete e chiare senza inseguire politiche non di sinistra. Veniamo ai temi della nostra regione. Noi in queste settimane abbiamo dovuto documentare una serie di situazioni critiche relative all'edilizia scolastica, in particolare su cui voi anche siete intervenuti sia come giovani democratici sia come coordinamenti studenteschi. Insomma, non ci siamo fatti mancare niente dal Delfico di Teramo alla situazione dell'Itis di Chieti, a Pescara un ritardato avvio delle elezioni al Marconi, la situazione dell'Aquila che è sotto gli occhi di tutti dopo ormai 16 anni dal sisma. Allora, siamo come sempre al punto di partenza forse ancora peggio perché probabilmente quello che non si riesce a fare è che voi denunciate la mancanza di pianificazione, di organizzazione e di dialogo. Esattamente, non siamo al punto di partenza, siamo tornati indietro e infatti è fondamentale, per questo lo ringrazio il Rettore, di parlare delle questioni studentesche e giovanili in Abruzzo perché non è un tema da campagna elettorale, non è un tema di propaganda politica ma in Abruzzo c'è una profonda questione generazionale che necessita delle risposte. Il caso che ha citato dell'edilizia scolastica con il grandissimo esempio del Delfico di Teramo ma è una questione edilizia scolastica presente in tutto l'Abruzzo, in tutto il centro-sud ma anche in tutto il paese perché in Italia abbiamo degli edifici scolastici molto molto datati, è presente, va affrontato con programmazione necessariamente perché l'esempio del Delfico di Teramo è un caso. Sotto questo punto di vista si stanno muovendo le istituzioni comunali e provinciali, fanno bene gli studenti a dire, noi sosteniamo che l'unica alternativa a quella scuola è quella scuola, l'ho ribadito anche il sindaco di Teramo ma in questo caso serve una programmazione diversa, soprattutto a Teramo sono in programma molti lavori per tutte le scuole colpite dal sisma del 2009, per questo serve programmazione, serve costruire la famosa scuola jolly, serve quindi alternare la presenza in quella scuola con i lavori che debbono essere fatti alle altre ma innanzitutto bisogna verificare con il ricorso effettuato contro il provvedimento della procura di inagibilità e impossibilità di presenza all'interno del Delfico di Teramo se ci sono realisticamente queste condizioni di pericolosità. In alternativa subito rientrare al Delfico con la condizione sine qua non di immediatamente avviare i lavori della costruzione della scuola jolly. In generale servirebbe direttore una maggiore programmazione ma anche maggiori fondi che sotto questo punto di vista non bastano mai e la regione nonostante non ne abbia la competenza dovrebbe dare il suo contributo. Sì ma forse si è persa l'occasione appunto di intervenire sugli edifici pubblici in generale quegli scolastici in particolare con il PNRR e probabilmente forse anche prima con il super bonus. Sicuramente bisogna sfruttare tutte le risorse presenti a partire da quelle europee, il PNRR si può ancora utilizzare, ci sono degli interventi programmati ma ad esempio a Teramo tantissime scuole sono finanziate, adesso bisogna attuare i lavori, questa è l'urgenza immediata. In altri casi invece abbiamo anche delle situazioni di gravità minore ma di impossibilità poi alla fruibilità degli edifici o per il numero degli alunni o per condizioni della struttura, ecco in questo caso bisogna investire rapidamente e sottolineo la regione nonostante non ne abbia la competenza può dare il proprio contributo. Passiamo all'università, quanto sta a cuore della politica in generale la vita, le esigenze, le difficoltà del mondo universitario abruzzese, degli studenti? Direi purtroppo poco perché l'università abruzzese soffre molto di disinteresse, ecco proprio in queste ore si sta votando per la rappresentanza studentesca all'Ateneo di Chieti Pescara, bisogna dare più attenzione e più centralità al mondo dell'istruzione e della formazione abruzzese. Negli ultimi dieci anni il 30% degli studenti e il 30% degli Atenei abruzzesi ha perso appunto il 30% degli studenti, questo perché manca un sistema regionale di diritto allo studio, le università sono valide, ci sono ottimi servizi formativi ma manca tutto quel contorno che altre regioni offrono e che quindi portano gli studenti a lasciare questa regione per poter studiare, per poter lavorare ma anche per potersi curare come sappiamo bene e abbiamo visto e sentito in questi giorni, in queste settimane. Sotto il punto di vista universitario serve un investimento maggiore nel diritto allo studio, sia per gli studenti delle scuole superiori e medie, bisogna aggiornare la legge sul diritto allo studio ferma al 78, noi abbiamo una nostra proposta che ripresenteremo proprio in questi giorni, ma sotto il punto di vista universitario invece bisogna smetterla di prendersi in giro perché serve un investimento forte e impegnativo per quanto riguarda i posti letto per gli studenti, l'Abruzzo è l'ultima regione per disponibilità di posti letto di residenze universitarie e per quanto riguarda le borse agli studio, i fondi sono insufficienti, i criteri sono stretti e le borse soprattutto vengono pagate in ritardo, quando queste diventano un rimborso perdono il proprio significato, cioè quello di andare a garantire la possibilità di accedere a un percorso gli studi, sono competenze delle ADSU e quindi della regione e serve dare maggiore attenzione al mondo universitario abruzzese, sostenerlo per far diventare l'Abruzzo una regione della conoscenza. E poi c'è il caro Affitti, abbiamo visto lo scandalo della casetta con pochi metri quadri, ma non succede soltanto a Roma e a Milano, c'è un problema anche sul nostro territorio per gli studenti pendolari. Assolutamente, il tema appunto dei posti letto per gli universitari deriva proprio da questo, perché affittare privatamente un alloggio, un posto letto diventa insostenibile. Nell'ultimo anno i dati sono questi, più 19% nell'area metropolitana di Chieti-Pescara per una camera doppia, più 5% per una camera singola, quindi sono dei prezzi in aumento in tutta Italia, poi abbiamo ovviamente i casi estremi delle grandi città di Roma, di Milano, di Bologna, come quello che ha citato, ma anche in Abruzzo abbiamo questo problema e soprattutto in Abruzzo potremmo dire che è maggiore perché rispetto invece a queste altre realtà metropolitane non abbiamo posti letto pubblici che vengono offerti, ne abbiamo pochissimi, siamo l'ultima regione in Italia. Parliamo di qualche centinaio di posti letto tra Chieti e Pescara, un centinaio all'Aquila, a zero a Teramo, anche gli interventi già in atto di costruzione di residenze pubbliche, sottolineo, e non quelle private perché si parla sempre in questo caso di poi dopo contributi di affitto che debbono essere dati, alcuni progetti sono in corso, bisogna accelerarli ma ne servono nuovi, il rapporto dall'1% dovrebbe passare al 10%. Girono, è passata quasi in sordina la vicenda degli aumenti sulle tariffe di trasporto pubblico locale all'inizio, proprio dell'anno scolastico, hanno colpito inesorabilmente anche gli studenti oltre che i pendolari, si poteva fare diversamente? Si può ancora fare diversamente, questo dei trasporti è un'altra questione gravissima che va a colpire soprattutto le studentesse e gli studenti ma anche i lavoratori che debbono recarsi sui luoghi di lavoro e soprattutto le aree interne di cui tanto si parla ma poi concretamente per garantire connessione e unione tra le aree interne e la costa della nostra regione poco viene fatto. L'aumento è completamente ingiustificato perché parliamo di un aumento del 20% dei biglietti, del 10% sugli abbonamenti, dal 2025 quindi tra poco di un ulteriore 10% sugli abbonamenti. Tutto ciò va a colpire le tasche delle famiglie degli studenti e va a minare il diritto allo studio che è il tema che sta accomunando un po' tutta la puntata, dall'edilizia scolastica alle università al tema dei trasporti. Garantire il diritto allo studio evidentemente non è una priorità per la regione Abruzzo che ha competenza in questa materia, evidentemente invece la regione offre solo una grande opportunità alle studentesse e gli studenti abruzzesi, cioè quella di lasciare questa regione e di emigrare. Bisognerebbe invertire la tendenza anche a partire dal tema del trasporto pubblico. Come diceva è passato in sordina perché ad esempio gli studenti, i sindacati, le associazioni dei consumatori avevano anche chiesto in regione di essere audite in merito alla proposta quando l'opposizione ha presentato una risoluzione per tornare indietro, per far riflettere la giunta e dire parliamo di pochi milioni di euro che la regione può investire utilizzando una gestione più accorta delle proprie risorse in base alle priorità di competenza regionale. Ecco, la risoluzione è stata bocciata senza neanche ascoltare gli studenti e i sindacati. Mi pare che la regione si stia chiudendo nel proprio palazzo senza neanche osservare quello che accade fuori. Nelle ultime ore voi siete intervenuti sul tema a Pescara, i giorni democratici, sul tema delle ultime misure relative alla disciplina della movida, degli orari, soprattutto in un momento in cui c'è anche un tema legato al disagio giovanile nelle zone centrali della città di Pescara, non soltanto nelle periferie perché qui anzi il problema è abbastanza serio e penso che la vostra generazione ne sia assolutamente consapevole. C'è questa idea di demonizzare un po' la movida che può essere anche alla base di riflessioni oltre che di azioni amministrative. È un tema probabilmente più complesso, andrebbe risolto insieme in una strategia di confronto per capire, parlare anche con i ragazzi e non ritenerli a prescindere chiassosi se non addirittura violenti e capaci di rovinare anche l'immagine della città. Assolutamente, il problema di queste soluzioni a tratti autoritarie come militarizzazione o appunto come in questo caso l'ordinanza di di fatto chiusura dei locali da mezzanotte di vieto di servire alcol e utilizzare tavolini all'esterno nella zona centrale di Piazza Muzzi è una visione secondo noi completamente miope perché non va a risolvere alla radice il problema di un disagio che è presente e su questo noi chiediamo l'istituzione dello psicologo scolastico obbligatoria in tutte le scuole, finanziata, sostenuta, sempre con la legge sul diritto dello studio che presenteremo, perché il problema va affrontato in questo modo, ascoltando le questioni e le situazioni dei ragazzi, vivendole e non pensando che piccole soluzioni a tratti autoritarie possano essere da argine a questioni molto più ampie e complesse. In questo caso a danno solo di chi fa economia, investe ed è, fa impresa in un'area della città che si sta suotando sempre di più. Anche in questo caso come la regione diciamo il miope rispetto alla questione dei trasporti e del diritto allo studio, l'amministrazione comune di Pescara mi sembra miope ai problemi reali della città. Bisognerebbe invece parlare di più di un'economia della notte, neanche durante la campagna elettorale con i nostri candidati lo avevamo fatto, perché con un'economia organizzata, controllata, regolare e attenta e valorizzando chi fa buona impresa si possono contenere anche dei fenomeni non positivi e sgraditi, ma tutto ciò non ha niente a che vedere con il disagio giovanile e i gravi fatti avvenuti a Pescara nelle ultime settimane. Bene, io ringrazio Saverio Gineno per questa interessante conversazione, abbiamo aperto un po' lo spaccato su quelle che sono le esigenze e anche le difficoltà che vivono i giovani o meglio quelli rappresentati per ora dalla forza di sinistra, giovani democratici, ripeto poi naturalmente sentiremo anche altre realtà del mondo giovanile, però è bene anche aprire uno spaccato su punti di vista diversi che a volte in televisione non trovano cittadinanza, quindi mi ha fatto assolutamente piacere che abbia accolto il nostro invito. Grazie ancora, arrivederci e buona serata.